Video lezione di oggi dedicata ad internet. Non come si naviga, attenti bene, ad internet e la sua storia, a quanto questa storia abbia veramente rappresentato la vera modernità dei nostri tempi e tuttora ne rappresenta senz'altro la modernità. Bene, comincio a stupirvi con una rivelazione che possiamo osservare in questa cronologia che ora vi mostro, tratta da una pagina dedicata all'interno della enciclopedia libera Wikipedia. A tal proposito ve la nomino così, perché se noi applichiamo l'etimologia greca del termine, se noi pensiamo all'enciclopedia, allora alla stessa maniera perché non interpretare in effetti il termine sovente inglesizzato Wikipedia, se non Wikipedia come Wikipedia. In fin dei conti è solo una enciclopedia veloce, veloce per consultazione e per le informazioni che ci restituisce. Scopriamo dunque che, sapete a quando risale l'esordio di internet? 1960. ARPA era, diciamo, un dipartimento del Ministero della Difesa degli Stati Uniti. Nel 1960, se ne è iniziato a parlare, si è arrivati al 1969 quando, pensate un po' che numeri, ad internet erano collegate solo quattro università americane. Nel 71, cioè due anni dopo, la famosa rete ARPANET, perché poi internet è la denominazione civile che la rete ha assunto, ARPANET connetteva tra loro 23 computer, dicasi 23. Ci fa quasi sorridere. Vero leggere questi dati ora? Ebbene, scorriamo un pochettino. Intanto ho piacere di stupirvi e lascio a voi una ricerca e un approfondimento su quando sia nata anche la chiocciola, il famoso denominatore comune della posta elettronica, quello che poi rappresenta, diciamo, il dominio, cioè dove alloggi un certo servizio di posta elettronica. Info, chiocciola, e poi il servizio, cioè il dominio presso cui si appoggia la mia posta elettronica o il fornitore del servizio della posta elettronica. Pensiamo a Gmail. Chi è il fornitore della posta elettronica di Google? Gmail dunque è il nome del servizio, però di fatto l'account, cioè l'identità digitale, è fornita da Google. Ebbene, la chiocciolina nasce nel 1972. Il signor Ray Tomlinson propone l'utilizzo della chiocciola per fare quello che la chiocciola sostanzialmente fa anche ora, separare il nome utente dal nome del servizio. Chiaro che nel 1972 veniva detto il nome della macchina. Scorriamo poi un pochettino veloce sino ad arrivare al 1982, una data probabilmente che i meno giovani ricordano per il mondiale di calcio, no? La famosa squadra italiana nazionale del 1982. Ebbene, nell'82 però è successo anche questo, cioè è stata coniata in qualche misura la parola internet, nonché il protocollo che consente, diciamo, ad internet di esistere e di articolarsi. Quando vediamo la sigla TCPIP, detto volgarmente, ma la realtà è TCPIP, noi abbiamo Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Questo è il protocollo, cioè il modo attraverso il quale scorrono i dati di internet. Pensate un pochettino, dal 69, quattro università americane collegate ad internet, siamo giunti al 1984, mille computer collegati. Per non parlare poi dei nomi di dominio, cioè quelle estensioni che sono aggiunte ad il nome di un sito internet e di fatto indicano l'intestatario di quel sito internet lì. Cioè chi lo ha registrato, chi ha registrato appunto un nome di dominio e in questo caso vediamo che nel 1985 sono sorti i primi domini nazionali. IT, IT per l'Italia, DE per la Germania, Deutschland, FR per la Francia, France. Abbiamo il .com, il .org, organization. Abbiamo il .gov, governo, utilizzato per i siti internet governativi. Abbiamo appunto EU, un sito dal respiro diciamo europeo. Andate a cercare il sito internet dell'Unione Europea e vedrete che il nome di dominio del sito internet dell'Unione Europea è Europa.eu. Guarda un pochettino. Scorriamo ancora perché l'Italia ha in effetti un ruolo centrale nello sviluppo tecnologico, ma in questo caso nello sviluppo di internet. 1986, ok? 1986, 30 aprile da Pisa, quindi insomma una realtà decisamente importante, prima connessione ad ARPANET dall'Italia, quarto paese al mondo a collegarsi alla rete. L'Italia c'era, l'Italia c'è. Guardate, l'Italia c'è sempre strata. Una grande figura nel campo della tecnologia che vi consiglio di approfondire è la figura di Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, signori, prima che Steve Jobs lo facesse con la Apple, aveva in America un negozio monomarca, quello che ora chiameremo lo store, su un treppiede esponeva una macchina da scrivere. La lettera 32, un capolavoro, cioè tanto per farvi capire quanto l'Italia sia stata centrale nello sviluppo di internet, vi dico che il primo computer, diciamo con quell'accezione, con quel termine lì, sviluppato da Adriano Olivetti e dall'ingegner Perotto, e non solo quello, è esposto al MOMA, al Museo di Arte Moderna, cioè in America, quindi il Museum Modern of Art. Cioè il MOMA è un museo storico, oserei dire forse il più famoso al mondo, e tra le opere d'arte cosa troviamo? La macchina da scrivere, ideata e pensata da Adriano Olivetti, pensate un pochettino. Ecco, poi nel 1987, chiaramente i numeri cominciano ad aumentare, e anche in questo caso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, cioè il CNR, si riserva un suo dominio .it. Scorriamo un pochettino. Nel 1990 nasce il protocollo HTTP, quella sigla che si antepone al WWW World Wide Web di un sito internet. Hyper Text Transfer Protocol. Di fatto internet è un enorme ipertesto, un enorme link, d'accordo? Un ipertesto è un contenuto che va oltre il testo che lo manifesta e che lo rappresenta. Le pagine internet, così come noi parliamo un idioma ben definito e parliamo la nostra lingua, la lingua italiana, le pagine internet a loro volta sono scritte in una lingua, e la lingua delle pagine internet è l'HTML, Hyper Text Markup Language, così come un file di testo. Tanto per intenderci, e di fatto arricchire un po' questa nostra video lezione di tecnologia e di informatica, così come un documento di testo ha una sua estensione .doc, documento, o .odt, open document text, una pagina web a una estensione .html, Hyper Text Markup Language. E vi stupisco ancora di più, ora siamo nell'era di Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, eccetera eccetera. Sì, ma il primo browser non si chiamava così, non era tra questi. Il primo browser pensato è per il web, cioè il primo programma pensato per affacciarsi alla rete, si chiamava Mosaic, Mosaic, 1993. Ora, le date sono numerose, vi lascio poi leggere assolutamente con piacere questi ulteriori riferimenti, però vi devo assolutamente dire che arriviamo poi sostanzialmente al 1991 e al 1991 dobbiamo la nascita della ragnatela mondiale, il World Wide Web, il WWF. Quindi la sequenza in effetti è stata, tanto per intenderci, scompare ARPANET perché di fatto lo cominciamo a chiamare internet e l'uso diviene sempre più accademico civile, non più militare come era stato agli albori, d'accordo? Poi ci troviamo ad avere a questo punto la nascita di questo HTTP e delle lingue, cioè del linguaggio in cui è scritta una pagina internet. Nel 1991 è nato il WWF che inseriamo regolarmente ancora adesso quando visitiamo un sito internet. Nel 93 abbiamo avuto un browser, cioè un programma per andare su internet, altrimenti dove potevamo andare. E poi una cosa molto importante è, insomma, come vi dicevo nel 91 la nascita del World Wide Web ad opera del CERN. Vedete che gli anni 90 sono proprio nevralgici per lo sviluppo di internet. Nel 96 ci troviamo con 10 milioni di computer, nel 96 siamo partiti e c'erano quattro università americane. Nel 96 arriviamo a 10 milioni di computer. Dato del 2015, da rivedere al rialzo, gli utenti di internet sono oltre 3,3 miliardi in tutto il mondo. Quindi insomma, una bella quantità e non esaustiva. Da cosa è influenzato secondo voi questo numero? Proviamo a pensarci. Beh, questo numero è influenzato, in questo caso al ribasso, dai cosiddetti paesi emergenti. Cioè un numero potrebbe essere ancora più alto se le condizioni economiche, ambientali, tecnologiche consentissero un fortissimo sviluppo anche nei cosiddetti paesi emergenti. Insomma, di ARPANET abbiamo direi parlato. E a questo punto, più che di ARPANET e di internet, ci terrei a farvi anche vedere un pochino come andiamo su internet e come si comporta il nostro Google. Attenti bene, Google da solo è motore di ricerca, Google Chrome è browser, ok? Google ormai è un'azienda strutturata a tutti gli effetti, da intendersi al pari della Coca-Cola. Ricordiamoci questo concetto importante, intanto come potete osservare, clicco e spazio su un piccolo video che ci racconta qualche cosa su Google. Noi siamo consumatori di internet, siamo utenti, nella stessa maniera in cui consumiamo una bibita. E guardate che a volte è colpa nostra dimenticarci la terminologia utente, perché quando finiscono i cosiddetti gigabyte mensili a nostra disposizione sullo smartphone o sul tablet, e ce lo ricordiamo sì che li stiamo consumando. Alla stessa maniera, ricordiamoci di consumare internet, cioè di fruire dei contenuti nella maniera giusta. E i dati di internet dove stanno? Ora, la domanda prevede una risposta molto ampia, in realtà la domanda io l'ho formulata forse anche troppo genericamente, però vi posso dire che per molti di noi Google è sinonimo di internet, non è così. Diciamo che Google è uno dei protagonisti di internet e Google i suoi dati dove li ospita? In un enorme edificio, cioè in un enorme struttura, e di queste strutture ce ne sono molteplici, che si chiama data center. L'avete mai visto come è fatto un data center di Google? C'è questo video che si trova su YouTube, il cui titolo è Inside Google Data Center, guardiamo un pochino qualche passaggio. Allora, come vedete in questo video sottotitolato, ci viene all'inizio spiegato come o quali definizioni si possano dare a un data center. Il nostro patrimonio nel 2020, oltre ad essere senza dubbio un patrimonio di natura economico, all'interno dell'economia globale, è il patrimonio dei dati. E più i dati sono grandi ed importanti, più diventano, detto all'inglese, i cosiddetti big data, dei dati grandi, significativi, che memorizzano informazioni su di noi, sui nostri comportamenti, sulle nostre ricerche, sulle nostre abitudini. Scorro un pochettino questo video per farvi vedere cosa si fa all'interno del data center. Allora, questi intanto sono i cosiddetti uffici di Google. 3 milioni di ore di lavoro. Allora, andiamo un pochettino a vedere, scorro con voi, come si accede a un data center di Google. Io scorro un pochettino con voi. Questo è il campus di Google. Vi faccio vedere questo video, è molto molto interessante, nel senso che chi parla è Joe Cava, una figura centrale all'interno dell'azienda Google. Google di fatto nasce da un'idea italiana, professor Marchiori dell'Università di Padova, però poi Google poggia sugli investimenti di due soci, Larry Page e Sergey Brin, che tuttora sono a capo, diciamo, di Google, per come noi lo conosciamo, e Google è ramificato assolutamente in tutto il mondo, ma con il cuore pulsante negli Stati Uniti. Questo che ci viene mostrato nel video è l'ingresso a un data center con i relativi protocolli di sicurezza. Stiamo entrando tutti insieme dentro un data center Google. So che forse vi tolgo un pizzico di poesia, ma quando effettuiamo una ricerca su internet e digitiamo, cioè andiamo a comporre, ad inserire una query di ricerca, cioè ad inserire delle parole chiave, interrogando, diciamo Google, facendogli frugare, no? All'interno dei siti che lui indicizza per estrapolare quelle parole chiave, i nostri dati passano da queste strutture che vedete qui, che sono certamente meno colorate del logo di Google e delle sedi dove lavorano i dipendenti. Ecco, questo corridoione, se vogliamo, è Google, ok? Quando parla di server, noi intendiamo dei cervelloni che elaborano le informazioni, i RAC sono queste strutture, possiamo chiamarli degli armadi in maniera impropria, dove sono alloggiati i server, anche qui in maniera impropria li definiamo dei computer senza monitor, che è possibile verificare da parte di un tecnico in qualsiasi momento, e che con un effetto domino sono in grado di clonare e replicare i nostri dati, perché non possa accadere che nel caso di malfunzionamento, spegnimento o un arresto anomalo di un server, il dato vada perduto e non esista da un'altra parte. Questa cosa che sta estraendo il tecnico è un hard disk, ok? Quindi hard disk lo inseriamo nella categoria hardware, ciò che si tocca, ok? L'hard disk è un supporto di memorizzazione fisico, duro, all'interno del quale circolano i nostri dati e vengono immagazzinati i nostri dati. Ecco, se osserviamo nel video come vengono triturati gli hard disk all'interno del corridoio del data center di Google, questo ci dovrebbe far aguzzare l'ingegno e far capire che forse, forse, quando smantelliamo un vecchio computer o quando abbiamo un computer che non ci serve più, il cuore pulsante, quello a cui badare, è l'hard disk. È un computer abbandonato, gettato, anche come rifiuto speciale, poi verrà distrutto per l'amore di Dio, ma laddove ci sia un hard disk integro, vi può essere una possibilità di recupero dei dati. Siccome nel caso di Google non può accadere che un malintenzionato metta mano adatti in maniera non autorizzata, questo apparecchio che si chiama cippatrice industriale, questa sorta di punta che va a piegare il metallo e quindi a danneggiare fisicamente l'hard disk, si deve sincerare che nessuno possa fare il furbo. Ok? Ora, se non l'avevate mai visto, questo è realmente un data center di Google. Internet abita lì, o perlomeno per completezza di informazione abita anche lì. E allora come funziona? Cioè quando io faccio una ricerca su Google, Google cosa fa? Google fa questo. Google fa dapprima un'analisi delle parole, poi effettua una corrispondenza con la ricerca, va a vedere il ranking, cioè il posizionamento, la classifica, detto brutalmente, delle pagine utili, ci restituisce i migliori risultati in considerazione del contesto. Attenti? Bene, questo è fondamentale. Google, motore di ricerca, non lavora per pertinenza necessariamente, ma lavora per popolarità. Conseguentemente la ricerca attiva delle fonti, cioè la selezione nostra da parte dell'uomo, la verifica di ciò che cerchiamo e la relativa interpretazione è fondamentale perché lui mi restituisce il miglior risultato, ma non è detto mi restituisca il risultato più pertinente. Ok? Il lavoro che va a fare Google, qui siamo nel sito ufficiale di Google, è che si chiama google.com, google.com, how search works, cioè come lavora la ricerca e la ricerca lavora tramite un algoritmo. Ecco, è l'algoritmo di Google che fino in fondo non potremo possedere perché naturalmente Google ci racconta come lavora, però poi tiene senza alcun dubbio alcune informazioni implicite in sé. Quando noi scriviamo come cambiare una lampadina, cioè questo è molto interessante, guardate in un contesto quanto la stessa parola possa assumere significati diversi. Cambiare una lampadina, così come l'ufficio postale può in realtà cambiare una valuta, ma a quel punto il verbo assume significato di scambiare, di scambio, e se io ti dico cambiare la luminosità e mi riferisco ad uno schermo, intendo invece il verbo regolare. Ecco l'importanza della query di ricerca, cioè delle parole chiave. Ok? Vi faccio un altro esempio. Accedo a Google il motore di ricerca e scrivo Ferrari not testa rossa. Allora, attenti bene, l'ho inserito in minuscolo, Ferrari not testa rossa, ci sono una serie di risultati. Vado ad effettuare la stessa ricerca. Ferrari not testa rossa. E abbiamo i medesimi risultati. Vado a cercare Ferrari or testa rossa. I risultati sono lievemente dissimili. Ok? Andiamo a cercare Ferrari. e testa rossa. I risultati cambiano sempre lievemente. Queste parole che ho utilizzato in lingua inglese, queste piccole parole, questi connettori, si chiamano operatori booleani. operatori booleani Google. Cosiddetti operatori logici, cioè ci consentono di effettuare delle ricerche mirate, anche senza accedere a delle impostazioni. Gli operatori booleani di Google sono and e, not, no, or, o. D'accordo? Vado a interrogare un momentino la nostra ricerca. Voilà. Quando scriviamo due o più parole come libri usati, Google interpreta la nostra query come se fosse scritta in questo modo. Libri and usati. Or. Lista libri fantascienza or avventura. Ok? In questo caso ricerco i libri di fantascienza o i libri di avventura. qualche tempo fa erano particolarmente importanti, ecco, gli operatori booleani. Adesso, francamente, avendo anche la possibilità di utilizzare nel motore di ricerca Google le opzioni, quindi le opzioni avanzate di ricerca che mi permettono di dire, ricerco questa parola ma escludo quella, la digitazione a mano del termine inglese è venuta un pochettino a morire. Vi saluto in questa lezione nella quale ho voluto darvi un pochettino una panoramica sulla storia di internet, su come internet abbia trovato in Google un alleato ma tutto sommato anche un soggetto da tenere sotto stretta vigilanza perché Google diventa poi il depositario dei nostri big data, no? Però è un protagonista di internet innegabile. vi faccio vedere, vi ho nominato prima Adriano Olivetti, un altro personaggio al quale dobbiamo molto nell'ambito informatico. Qua siamo su Rai Scuola. Alan Turing, l'uomo e la macchina. Chi è Alan Turing? Alan Turing, una mente raffinatissima, nacque nel 1912, quindi siamo insomma primissimi anni del 1900. Studia in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, ma lo ricordiamo come un personaggio veramente che ha segnato la storia dell'informatica moderna perché nella seconda guerra mondiale viene arruolato per cercare di porre un'argine, ahimè, ai tedeschi. Cioè i tedeschi utilizzavano una macchina che si chiamava Enigma che era in grado di decrittare e decrittare dei codici, cioè forniva le istruzioni la Germania ai suoi militari con dei codici che gli avversari, gli antagonisti, non riuscivano a decifrare. Allora Turing, pensate, ha elaborato dapprima una costruzione teorica, cioè con dei calcoli matematici ha cercato di capire come poter vincere ciò che i tedeschi nel frattempo insomma portavano avanti, no? Perché sai, un ordine arrivato in codice dalla Germania poteva rappresentare un attacco in più, delle vittime in più in un conflitto così grande. E allora Turing riesce dalla teoria a passare alla pratica, cioè a dar vita ad un grande calcolatore. C'è un film bellissimo che vi suggerisco di vedere, anche con i genitori, con i docenti, che si chiama The Imitation Game. Magnifico, nel quale si vede anche per certi versi come è costituita questa macchina di Turing, ok? Uno dei primi passi, forse dei punti vocali, della informatica moderna. Non vi mostro l'immagine, andatela a cercare, vediamo cosa ha fatto questo Turing. Per noi Turing ha fatto molto perché Turing ha dato un contributo fondamentale non solo poi alla risoluzione in qualche maniera, cioè all'argine di un conflitto così grave, però a Turing dobbiamo anche l'intelligenza artificiale. Bello adesso parlare di Alexa, bello parlare di Google Home, Google Assistant, tutto bello. Ma se l'intelligenza artificiale esiste è perché nei primi del Novecento già Turing, che è stato un pioniere nell'informatica moderna, con i suoi studi matematici aveva cominciato a dare vita a questa intelligenza artificiale. Pensate poi la beffa della vita, Turing ha in qualche maniera fatto una scoperta così importante che è stato poi vincolato al segrete a non rivelarla. Inoltre, ma questa è una particolarità insomma che vi racconto solo per capire quanto la diversità poi sia un male, poiché Turing aveva un orientamento sessuale particolare e non ammesso in quei tempi, e Turing aveva confessato in qualche misura di essere quindi omosessuale, di avere questo tipo di orientamento, dovette scegliere tra il carcere e la castrazione chimica, cioè una punizione, e la sofferenza poi è stata tale che Turing insomma ha perso la vita mangiando una mela al cianuro. Insomma quindi vedete sono dei grandi, ci sono dei grandi che a volte non sono così noti, noi ci ricordiamo Steve Jobs che è senza dubbio un grande protagonista anche egli dell'informatica moderna, però Adriano Olivetti, Alan Turing sono figure altrettanto importanti che vi consiglio e vi esorto ad approfondire che ci inducono senz'altro a riflettere e a capire come la più sofisticata macchina nasca e sia sempre mediata e regolata dall'uomo, perché l'uomo godendo dell'intelletto del suo cervello cerca di applicare una intelligenza che non sia artificiale, è un'intelligenza che può essere razionale o irrazionale, però è l'intelligenza da cui al momento non possiamo prescindere nella programmazione anche della più sofisticata macchina.